Ups a tutti, miei cari upsini e upsine. Come state? Spero veramente, veramente bene. Bene, oggi sono qua solo per voi, per fare questo nuovo video dove con dei trigger io voglio farvi addormentare. Quindi, senza dire altro, indossate un paio di cuffie o auricolari, come sto facendo io. E mettetevi in un posto comodo, il letto, il divano, decidete voi. Io inizio, sì. Come primo oggettino vorrei prendere questo strumento che serve per grattare la cute quando si lavano i capelli. Come si lavano i capelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un po' grattando, 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 grattando. Molto carino secondo me. Adesso prendo questa pacchetta. E credo che farò il tracing di un paio di parole. Quindi dovete individuare le lettere che scrivo e ovviamente la parola finale. Quindi inizio. Prima lettera. G U Cuore 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 la punta dove scrive su questo schermo immaginario B E E Barbie 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok dai, mettiamolo via. Io adesso prendo questo rotolo che era contenuto nella cardicenga. Ok? Ok. 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 Buonanotte 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 Ma perché fanno sto solo? Buonanotte 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 Ora Come ultimo trigger Ho qui questa crema a mani E ce ne metteremo un po' Per fare un po' di E' un po' di E' un po' di Vedete Vedete La prendo ancora un po' Buonanotte 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 Ha un ottimo profumo. Un ottimo profumo. Una domanda a bruciabela così. Avete visto l'Eurovision? Vi è piaciuto? Scrivetemi qual è stata la vostra canzone preferita. Ok. Io credo sia giunto il momento di dire cu-cu-cu-cu. Ora tocca a te. Iscriviti al canale se sei nuovo per andare a far parte della OOPS community. Poi lascia un like, un bel commento se hai un pochino di tempo. E il video di oggi finisce qua. Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio qua il mio video precedente. Qua una mia playlist. E qua il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video e gli shorts che vuoi. Io ti mando un grande bacio. Buonanotte. 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 Buonanotte Buonanotte